buongiorno buon lunedì vi do un ulteriore spunto di risparmio per iniziare bene la settimana lascio passare come sempre qualche secondo e intanto ricordo che una settimana fa vi avevo dato un'ulteriore indicazione per quanto riguarda la possibilità di risparmiare su quelli che sono gli interventi di efficientamento energetico e di consolidamento antisismico tramite l'eco bonus che vi consente di detrarre dal 65 all'85% delle spese, ripeto dal 65 all'85% delle spese, questo è il famoso ecco bonus, la detrazione fiscale, trovate il video appunto un paio di settimane fa oppure nel mio blog nella sezione risparmio e in più avevo indicato in questo caso per i professionisti avevo indicato la possibilità di utilizzare l'iperabortamento del 130% per gli impianti fotovoltaici appunto su imprese o installati da liberi professionisti, quindi ribadisco questi sono interventi suggerimenti che chiaramente trovate in rete, trovate appunto anche il mio video una settimana fa, due settimane fa, quindi lo trovate sia su youtube sia nel mio blog nella sezione risparmio, quindi ribadisco detrazione fiscale 65-85% per quanto riguarda interventi di efficientamento energetico o interventi antisismici e superammortamento del 130% per quanto riguarda il fotovoltaico, l'installazione del fotovoltaico su imprese e libri professionisti. Oggi invece di cosa voglio parlarvi? Voglio parlarvi del conto termico, il conto termico è un altro incentivo gestito sempre dal GSE che serve per incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica, energia termica quindi non l'elettricità ma banalmente l'acqua calda, l'acqua calda per i sanitari, l'acqua calda per il riscaldamento, in generale ciò che riguarda riscaldamento e anche raffreddamento, questo su impianti di piccole dimensioni e chi può accedere? Possono accedere sia pubbliche amministrazioni che hanno un plafond di 200 milioni di euro a disposizione, sia privati che ne hanno 700 di milioni di euro a disposizione e ne sono rimasti ancora parecchie centinaia, per questo mi permetto di farvelo sapere perché i soldi sono lì, sono disponibili, c'è un'unica erogazione fino a un massimo di 5.000 euro ma vi viene data subito con un pagamento all'incirca di due mesi, quindi pubbliche amministrazioni e privati e l'accesso può essere chiesto direttamente da questi soggetti o anche per il tramite delle ESCO, le ESCO le famose ormai per chi mi segue Energy Savings Company, quindi sono le aziende che fanno loro l'intervento, non vi fanno tirar fuori una lira perché poi si ripagano con il risparmio conseguito o in questo caso accedendo a queste agevolazioni. Sono previsti interventi anche per la diagnosi energetica e gli amministratori di condominio e gli amministratori di aziende sanno benissimo chi ha l'obbligo di diagnosi energetica e anche per la certificazione energetica, il famoso APE, l'attestato di prestazione energetica. Quindi in sintesi, interventi di coibentazione delle pareti, delle coperture, la sostituzione di serramenti, l'installazione di schermature solari, la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti più efficienti come per esempio le caldaie a condensazione, la sostituzione e installazione di impianti con fonti rinnovabili tra cui pompe di calore, caldaie, stuffe, cammini a biomassa, abbiamo parlato tantissime volte dell'enorme problema dei 4 milioni di impianti vecchi, di stufette vecchie a legna che sono le maggiori responsabili dell'inquinamento cittadino perché ricordiamolo, il maggior responsabile dell'inquinamento cittadino non sono le automobili ma sono bensì proprio gli impianti di riscaldamento. Ovviamente bisogna lavorare su entrambi i fronti, sia le automobili sia gli impianti di riscaldamento, impianti solari termici in abbinamento anche a tecnologie di solar cooling quindi per la produzione di freddo. Ecco questi sono tutte interventi che possono essere finanziati dal conto termico e come ho detto abbiamo ancora molti soldi a disposizione, abbiamo ancora molti soldi a disposizione, ci sono centinaia di milioni di euro a disposizione per questi interventi. Io adesso vi lascerò dei link di approfondimento in cui sono indicati nel dettaglio le misure incentivabili perché c'è una differenza tra le pubbliche amministrazioni e i privati. I privati e pubbliche amministrazioni possono fare sia sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore, sia sostituzione di impianti di climatizzazione con sistemi di generatori di calore alimentati da biomasse, sia il solare termico, sia la sostituzione di scalda acqua elettrici con pompe di calore, sia la sostituzione con sistemi ibridi a pompa di calore. Mentre esclusivamente per la pubblica amministrazione possono fare interventi di isolamento termico di superfici opache, sostituzione di chiusure trasparenti, sostituzione di impianti con le caldaie a condensazione, installazioni di schermature per gli edifici, trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze con sistemi efficienti di illuminazione e l'installazione di sistemi di building automation. Ecco quindi un appello a tutti i sindaci e le amministrazioni, non solo 5 stelle naturalmente, tutte le amministrazioni possono utilizzare questo conto, vi lascio dei link di approfondimento, ribadisco questi sono ancora centinaia di milioni di euro a disposizione, così come è a disposizione sempre l'eco bonus per la detrazione fiscale 65-85% e il super ammortamento 130% per quanto riguarda il fotovoltaico per i professionisti. Vi lascio i link di approfondimento, avvisate chi non è a conoscenza, questi sono i soldi che lo Stato ha messo a disposizione e possono essere utilizzati per efficientare l'abitazione privata e pubblica e si può arrivare tranquillamente a un dimezzamento di quella che è la bolletta appunto per il riscaldamento, quindi sono soldi assolutamente ben spesi. Quindi grazie a tutti e buon inizio settimana a tutti.